Il Partito Democratico di Taranto in particolare si potrebbe definire il partito degli ipocriti. C'è certamente una ipocrisia politica, ma questa si potrebbe anche comprendere. Ma c'è anche della ipocrisia proprio umana e ci fa capire proprio l'incoerenza, lo sciacallaggio che c'è nella politica e in particolar modo nel Partito Democratico. Io premetto che sono anti Melucci, io e Massimo Battista siamo i massimi oppositori dell'amministrazione Melucci, siamo stati i firmatari della mozione di sfiducia al sindaco. Quindi figuratevi, io Melucci lo voglio politicamente distrutto, azzerato. Però a questo punto sentire il Partito Democratico che ha amministrato, ha governato sette anni braccio a braccio con Melucci, assecondando ed esaltando Melucci, facendogli yes ben di Melucci, ora cosa fa? Il Partito Democratico si scaglia contro Melucci e rinnega tutta l'attività di Melucci, che è la loro attività. Ma la cosa che mi ha sorpreso sono le dichiarazioni di Lucio Lonuce in merito alla vicenda stadio e quindi al fatto che il Taranto Calcio per due anni, a causa dei lavori per i giochi del Mediterraneo, lavori di ristrutturazione, giocherà quasi sicuramente, giocherà lontano dallo Iacovone, ma chissà dove andrà a finire, forse anche a Teramo. Lucio Lonuce, consigliere comunale, una persona con cui ho un bel rapporto umano, una brava persona, simpatica, disponibile. Ma Lucio, te lo devo dire, la tua è stata una ipocrisia veramente incredibile. Incredibile, scusatemi, signori del PD, ma dal punto di vista politico avete una faccia di bronzo, faccia di bronzo di quelle mai viste. Una cosa incredibile. Ora, Lucio Lonuce evidenzia le gravi responsabilità di Melucci in tutti i ritardi per la ristrutturazione dello stadio Iacovone e dice, partendo, iniziando il suo discorso, il sindaco Melucci sta dimostrando tutta la sua inadeguatezza. E parla, critica in maniera feroce Melucci. Ma Lucio Lonuce, tu dove stavi? Lucio Lonuce, dove stavi? Me lo fai capire dove stavi? Lucio Lonuce, tu sei stato presidente del Consiglio Comunale. Con Melucci. Lucio Lonuce, ma fammi capire, il PD ha avuto assessorati chiave, ha avuto le società partecipate con Melucci. Quando tu, Lucio Lonuce, mi dici che la città è sporchissima e me lo dici un mese dopo che il PD si è staccato da Melucci, tu, lo ripeto, dove stavi? Il presidente Mancarelli, a chi apparteneva, non era un uomo del PD? E voi non avevate i vostri uomini in tutte le società partecipate nominati da Melucci? Lucio Lonuce, lo ripeto, gli assessori erano i vostri. Penso a Francesca Vigiano. Non si può, dopo un mese, dopo essersi staccati da un mese da Melucci, volersi rifare una verginità politica, perché ora voi volevate far cadere Melucci e passare davanti alla città come i salvatori della patria. No, voi siete responsabilissimi, gravemente responsabili dal punto di vista politico-amministrativo, tanto quanto Melucci, né più e né meno. Questa città deve essere politicamente rivoluzionata, rivoltata come un calzino, e politicamente deve sparire Rinaldo Melucci e parimenti deve sparire il partito politicamente e il partito democratico. E voi consiglieri che avete sostenuto Melucci. Così come ora leggo anche altre dichiarazioni di Francesco Falcone, che è il coordinatore provinciale di Conn. Beh, caro Francesco Falcone, ma tu mi pare che abbia avuto anche degli incarichi tecnico-politici da parte di Melucci. E tu, Falcone, come appunto Conn, avevate i vostri rappresentanti nell'amministrazione Melucci. E come mai ancora non avete espulso Bitetti e Lafornaro, visto che sono pro Melucci? Evidentemente anche a voi piace molto essere equivoci, giocare sugli equivoci, stare e non stare con Melucci. Tu stai buttando, caro Francesco Falcone, stai buttando a mare, come è giusto che sia, Rinaldo Melucci, però avete ancora due uomini vostri che sostengono Melucci, nelle persone del presidente Bitetti e della consigliera Stefania Fornano. Insomma, un partito democratico e le altre forze che sostenevano Melucci, che ora fanno i pentiti, vogliono rifarsi, ripulirsi la coscienza dal punto di vista politico-amministrativo, per carità. Ma anche la falsità di Melucci, perché, ripeto, non so chi è più falso tra Melucci e coloro i quali amministravano con Melucci e poi si sono distaccati da Melucci, perché il sindaco ora spara zero su Emiliano, spara zero sui ritardi dell'ospedale San Cataldo, quando era lui stesso a celebrare l'ospedale di San Cataldo, con tanto di cartelloni, manifesti e vele durante la campagna elettorale, ha celebrato l'ospedale San Cataldo fino a tre mesi fa, prima che vi fosse la rottura con Emiliano. Insomma, per favore, Melucci, Partito Democratico, Con, Emiliano, siete una schiera, una compagnia di falsi politicamente ipocriti, ma vi posso dire che anche dal punto di vista umano voi siete deludenti, siete agghiaccianti, perché non avete una coerenza, avete una sola cosa in comune, la poltrona e sareste capaci di buttare a mare chi che sia pur di salvaguardare questa poltrona. la vergogna politica sia con voi, non lo dico solo a nome mio, ma a nome della maggior parte dei tarantini. Ecco perché la gente poi perde la fiducia. Io e Massimo Battista, con l'esempio quotidiano, il nostro impegno per il territorio, per strada, a fianco alla gente, vogliamo farvi innamorare di nuovo di questa città, farvi innamorare di chi vuole mettersi alla guida di una città per condurla avanti, per migliorarla, senza le ipocrisie di Melucci, senza le ipocrisie del Partito Democratico, senza le ipocrisie di Michele Emiliano e di Con, Con, con tutti e con nessuno, pur di mantenere la poltrona. Grazie a tutti.